Un saluto ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con le nostre tribune elettorali. Oggi ci occupiamo della sfida in Abruzzo, nell'unica circoscrizione proporzionale del Senato, dove sono presenti numerose liste e formazioni politiche con candidati che sono inclusi nella lista che troverete già sulla scheda elettorale. Ricordiamo soprattutto il sistema di voto che non prevede preferenza, nonostante vi siano nomi sulla lista, quindi è importante non sbagliare, è importante mettere esclusivamente la croce sul simbolo prescelto. Questo è un tormentone che ripeteremo perché temiamo che in molti con il Rosatello non possano sbagliarsi nel votare nell'urna. Insomma, quindi dobbiamo dare anche questo tipo di informazione. Oggi abbiamo tre liste che si confrontano tra di loro, con i rappresentanti che sono poi capolista nella circoscrizione Abruzzo al Senato. Saluto e ringrazio Antonio Felice di Italia Sovrana e Popolare. Buonasera a lei. In collegamento Zoom abbiamo Mario Adinolfi, leader nazionale, capolista nella circoscrizione Abruzzo al Senato per Alternativa e per l'Italia. Un saluto anche a Mario Adinolfi. Saluto a tutti. E abbiamo anche in studio la candidata capolista della lista Vita, Gisella Joelle. Un saluto anche a lei. Salute e buonasera a tutti. Allora, noi iniziamo nel presentare innanzitutto le liste e in questo caso una mini coalizione che è quella che si raggruppa sotto il cartello di Italia Sovrana e Popolare. Non voglio sbagliare i nomi dei soggetti politici, delle esperienze che si sono unificate in questa proposta elettorale. Allora lascio la parola ad Antonio Felice. La nostra è stata più che altro una coalizione, un'associazione di 15 tra partiti e associazioni che in questo periodo hanno svolto un'opposizione reale al governo Draghi. Un'opposizione fatta nelle piazze tra la gente, un'opposizione che non abbiamo avuto in Parlamento, visto che il Parlamento era schierato unanimamente a favore di Draghi. A partire dalla Meloni che oggi dice di aver fatto opposizione, ma in effetti ha votato tutti gli atti che sono stati posti da questo governo. Quindi dalle restrizioni per quanto riguarda il Green Pass, dalle sanzioni fatte alla Russia, dall'invio di armi inviate ai nazisti ucraini di Zelensky. Tutte queste cose hanno portato quelli che erano i partiti dell'arco parlamentare a provare tutto quello che Draghi proponeva. Anche oggi dicono che tutti questi partiti vogliono seguire l'agenda Draghi, quindi vince la Meloni, vince Letta, chiunque vincerà queste elezioni, chi continuerà a governare sarà l'agenda Draghi. Ma l'agenda Draghi che cos'è? L'agenda Draghi è quella che l'Unione Europea impone ai governi che ne fanno parte e Draghi è un uomo dell'Unione Europea messo a governare l'Italia e a gestire una crisi che avrà ripercussioni molto gravi nell'immediato autunno. Da qui si capisce anche il motivo per cui ci hanno fatto votare il 25 settembre, il motivo per cui il 15 agosto ci hanno costretto a noi a raccogliere le firme per essere presenti a queste elezioni. Si capisce perché la crisi a cui andremo incontro in questo autunno sarà una crisi molto grave, avrà ripercussioni sociali gravissime e ovviamente si sarebbe votato a marzo, questo si sarebbe ripercorso su tutti i partiti che hanno appoggiato Draghi. Nel prossimo giro andremo sull'elenco dei soggetti aderenti, comunque ci ha esposto un po' il manifesto politico di Italia sovrana e popolare. Mario Andinolfi ha dato vita a questo nuovo soggetto che si chiama Alternativa per l'Italia, di cui ricordo appunto lui è il leader nazionale, è un po' l'evoluzione del popolo della famiglia, ma lui ci può spiegare molto meglio. Sì, Alternativa per l'Italia anche nasce dall'incrocio di diverse esperienze, quella del popolo della famiglia che fu protagonista alle elezioni del 2018, quella di Simone Di Stefano, anche lui protagonista alle elezioni del 2018, oggi presidente dell'associazione Exit, poi ci sono altri amici di più Italia, di Italia sovrana, del partito dei poveri e di altre realtà che si sono aggregate all'interno di questa opzione di ispirazione cristiana e nazionale che si chiama Alternativa per l'Italia e si affaccia per la prima volta con questo simbolo che riporta anche i nomi miei e di Simone Di Stefano sullo simbolo stesso come indicazione delle leadership che propongono al Paese un cambiamento radicale, un cambiamento radicale essendo noi l'unica lista che non ha parlamentari uscenti da rieleggere, questo è un elemento che ci caratterizza tra tutte le liste che sono presenti, lo ricordo che in Abruzzo avrete al Senato 10 diverse opzioni coalizionali, chiamiamole così, da cui scegliere, l'unica che non ha un parlamentare eletto da ricandidare o da rieleggere in tutta Italia è Alternativa per l'Italia, per questo proprio la natura della nostra compagine è una natura di alternativa concreta a quella che giudichiamo che può essere stata la più oscena delle legislature repubblicane, non solo per gli esiti tragici a cui stiamo vivendo, che stiamo vivendo sul piano dell'impatto economico sulle famiglie, sulle piccole e piccolissime imprese e sui singoli cittadini, penso al caro Bollette come punta di un iceberg, di un disagio che è in realtà complessivo e sta colpendo in maniera violentissima i ceti medio-bassi, ma al di là della tragedia della condizione economica c'è anche la tragedia della condizione politica, questo è stato un Parlamento di volta gabbana, di cambia casacche, di persone che si sono inventati gruppi parlamentari all'ultimo secondo per provare a lucrare qualche spazio mediatico in più è davvero stato uno spettacolo osceno quello che ha fornito la classe politica della diciottesima legislatura repubblicana essendo io stato parlamentare un po' di legislature fa Ecco, abbiamo un problema sullo Zoom, speriamo di poterlo recuperare presto Mario Di Nolfi che aveva comunque esaurito il concetto, anche un po' il tempo, però insomma l'avremmo fatto continuare volentieri lo sentiremo tra pochissimo recuperato il collegamento Gisella Joel, lista vita che appunto, diceva Di Nolfi, ha una parlamentare già eletta nel precedente Parlamento che è la Cunial, ma ovviamente lei è uscita un po' anche da tutti i giochi negli ultimi tempi di questa legislatura ecco, ci spiega perché, ci spiega perché è presente questa forza politica nella competizione elettorale Certo, certo, allora innanzitutto io faccio vedere il simbolo vita perché il simbolo vita ha un suo significato ben preciso sia come immagine, che non so se si riesce a vedere dal telefonino sia come immagine che anche come significato perché questo simbolo del tutto nuovo è stato sotto l'insegna di questo simbolo del tutto nuovo creato al momento appositamente per togliere ogni personalismo di quelle persone di quei partecipanti che poi sono sotto questo insegna che hanno animato le piazze in questi due anni per opporsi al sistema la Sara Cunial è l'unica parlamentare che si è opposta davvero in Parlamento a tutta la tirannia a cui siamo stati sottoposti anche noi cittadini con l'obbligo del vaccino e lei non si è vaccinata ed è stata l'unica a non entrare in Parlamento sappiamo che altri anche se si sono opposti, chi con il Green Pass comunque è entrato perché ha avuto il Covid invece lei è stata coerente con se stessa, non è entrata in Parlamento, non ha preso nessun Covid e quindi ecco perché la Cunial diventa segretaria di questo partito diventa segretaria di questo partito perché poi ci sono anche altri personaggi come l'avvocato polacco che abbiamo visto che si è battuto in tutte le piazze d'Italia per la libertà di scelta perché noi siamo per la libertà di scelta siamo per i diritti dell'uomo e quindi compattiamo per quelli c'è una legge naturale da rispettare, ci siamo visti violati, ci siamo visti violentati letteralmente un po' da tutti, dai media, dai giornali, dalle televisioni principali con uno stesso unico pensiero senza lasciare spazio neanche ai medici che si opponevano ad alcune terapie che sono diventate vere e proprie TSO perché siamo tutti costretti a vaccinarci e quindi non è giusto. Allora questa unione di queste persone come Barillari, l'onorevole Sara Cunial, il movimento 3V di Luca Teodori sono tutte forze pole che hanno, diciamo, si sono fatti scivolare addosso il loro personalismo e si sono uniti in un'unica insegna, proprio hanno rinunciato al loro simbolo politico e per me già questo è un atto di porsi a fianco al cittadino e non al di sopra e io sono felice di far parte di questa organizzazione proprio perché noi, cominciando da me, siamo semplici cittadini che non ci siamo lasciati corrompere da questo sistema non abbiamo accettato, abbiamo rinunciato anche al nostro lavoro oppure di non farci vaccinare questa è una garanzia di non corruzione. Allora andiamo sul secondo giro di risposte risposte relative sempre più o meno al tema principale, ricordiamo che voi siete tre formazioni che appunto essendo novità nella proposta politica puntano perlomeno ad entrare il Parlamento superando una sorglia di sbarramento non facile che è quella del 3% non essendo coalizzati anche con altri partiti. Ecco, siete anche tre proposte antisistema se vogliamo perché in contrapposizione sia con i poli principali, sia con il Movimento 5 Stelle che con il cosiddetto terzo polo. Ecco, qual è la proposta che vi caratterizza anche rispetto ad un elettorato al quale intendete parlare che è più o meno analogo quello dei cittadini che magari, ecco, soprattutto quel 30 e oltre per cento che secondo gli ultimi sondaggi non ne vuol sapere più della politica non vuole andare nemmeno a votare. Ecco, perché è possibile portarvi in Parlamento e perché votare proprio per la vostra proposta politica? Antonio Pollice. Innanzitutto, allora, ripartiamo da quella che era anche la domanda precedente per dire che nella nostra formazione politica, oltre al Partito Comunista di cui sono fiero di esserne il segretario regionale oltre che il responsabile nazionale dell'ambiente, abbiamo anche ancora Italia, Riconquistare l'Italia, Azione Civile di Antonio Ingroia, il fronte socialista di Igor Camilli, quindi abbiamo una serie di formazioni che durante questo periodo si sono battute contro l'obbligo vaccinale, contro il Green Basma che sono convintamente convinti di uscire dall'Unione Europea e soprattutto dalla Nato. La nostra sigla politica si chiama Italia sovrana e popolare, perché vogliamo ribadire quella che è la sovranità dell'Italia sul nostro territorio. Badate bene che noi abbiamo porzioni di territorio che sono in mano agli Stati Uniti, alla Nato, su cui noi non possiamo governare. L'esempio avvenuto qualche giorno fa a Pordenone, con questo non voglio assolutamente utilizzare un argomento così triste a fini elettorali, però di quella soldatessa della Nato che ubriaca alla guida della sua autovettura ha ammazzato un ragazzo di 15 anni e che probabilmente questa soldatessa verrà processata negli Stati Uniti e non in Italia dove ha commesso il reato, questo significa che noi non abbiamo sovranità sul nostro territorio, non abbiamo più la sovranità monetaria, perché è Bruxelles che decide cosa fare dell'Italia e di fatti ogni giorno abbiamo le indicazioni che dall'Unione Europea arrivano, come quella della privatizzazione dell'acqua, come quella della speculazione che ci si sta avvenendo sul gas, perché poi di questo dobbiamo parlare, il prezzo del gas non è aumentato alla fonte, la Russia non è che ha aumentato il prezzo del gas, ma sono gli speculatori e il capitalismo che sta facendo aumentare il prezzo del gas alle famiglie, alle imprese e così via. Quindi noi vogliamo dire, noi vogliamo riacquistare questa nostra sovranità in Italia, ma soprattutto lo vogliamo fare con il popolo e quindi per questo è popolare. Qualcuno ci accusa di aver sovvertito da comunisti quella che era la nostra idea, ma badate bene che i padri costituenti, quelli che avevano fatto la resistenza, che hanno combattuto il nazismo con le armi, hanno scritto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo. Quindi noi riportiamo nel nostro simbolo il primo articolo della Costituzione perché vogliamo tornare ad applicare la Costituzione che è parte fondamentale del nostro Stato. Grazie. Mario Di Nolfi, non so se ha recuperato il collegamento in tempo per ascoltare la mia domanda, io comunque gliela ripeto, voi siete in questa tribuna, tre formazioni antisistema in qualche modo che puntano però ad entrare in Parlamento parlando soprattutto a quell'oltre 30% di persone che nei sondaggi non ancora hanno deciso se andare a votare, per chi andare a votare. Su quali proposte caratterizzanti, anche rispetto ad altri soggetti come Italexit, altri soggetti che si proclamano antisistema, voi pensate di intercettare questo elettorato? Io non mi sento dentro la definizione di antisistema, io semplicemente propongo un'alternativa di governo con un programma molto chiaro, non è un programma comunista per dirci tutto, non sono tra quelli che stappano champagne a cadavere caldo perché è morto Mikhail Gorbachev, io penso che quando Mikhail Gorbachev ha abbattuto l'Unione Sovietica e fatto ammainare la bandiera con la falce e martello dal pennone del Cremlino abbia compiuto un percorso che la storia ha valutato come positivo, cioè la fine dell'oppressione comunista sull'Europa e sull'Unione Sovietica grazie all'azione fondamentale di San Giovanni Paolo II e dunque per esempio dal punto di vista ideale io non ho un approccio di quelli che dicono è morto Gorbachev, stappo lo champagne, io rivendico coloro che sanno cambiare le cose cambiando dal territorio dell'oppressione al territorio della libertà e sicuramente Gorbachev ha operato in questa direzione abbattendo il comunismo, così all'interno di una dimensione dittatoriale che abbiamo vissuto in questa stagione in cui noi siamo andati nelle piazze a gridare che il Green Pass era uno schema assimilabile all'apartheid sudafricano per cui io non potevo salire sullo stesso autobus su cui poteva salire il mio cane, in cui io non potevo andare al lavoro, io stesso Maria Di Nolfi non vaccinato, over 50, quindi passibile di obbligo vaccinale sono stato sanzionato, mi è stato reso impossibile a me personalmente di andare a lavorare nei miei contesti, se voi vedete io che faccio abitualmente l'opinionista televisivo sulle reti nazionali, da un certo punto in poi non sono più potuto entrare negli studi televisivi e ogni collegamento veniva fatto da casa mia perché ero ridotto agli arresti domiciliari, sostanzialmente erano arresti domiciliari, quel tipo di esperienza certamente di forma autoritaria noi fin dal nostro simbolo che dice no Green Pass al cuore del programma provettiamo agli italiani mai più meccanismi che riducano la persona ad un giabbarle, attenti anche a quelli che promettono il comunismo come soluzione delle questioni perché nient'altro che hanno fatto nella storia il reificare la persona umana, renderla cosa, mai più soggetti che possano determinare la dignità della persona accendendo e spegnendo i diritti a seconda della propria ideologia che va a comandare in termini dittatoriali. Grazie, grazie a Dinolfi. In questa legislatura non deve accadere mai più, chi si propone in alternativa a questa legislatura forse farebbe meglio riflettere sui danni che il comunismo ha prodotto nella storia. Allora, poi sentiremo su questo anche Felice naturalmente. Gisella, la domanda però era relativa alla situazione generale di questa offerta. elettorale, perché dovrebbe essere nell'ambito di tanti soggetti che si propongono in alternativa proprio su questi temi come quelli della libertà dal Green Pass, perché dovrebbero scegliere proprio voi? Bene, innanzitutto già lo stavo dicendo prima la motivazione principale, però volevo specificare innanzitutto perché noi siamo invece antisistema, perché abbiamo visto che abbiamo una classe politica, da sempre è stato così, però negli ultimi anni abbiamo visto l'esagerazione di questa classe politica assoggettata al capitalismo mondiale, quindi noi vogliamo liberarci di questa classe politica che ci ha portato alla deriva. Siamo stanchi, vogliamo portare avanti i cittadini, perché noi abbiamo scelto di mettere i cittadini così, che non facevano parte della politica? Proprio per avvicinare la politica ai problemi del cittadino, perché in questi ultimi anni che abbiamo avuto questa classe politica egoista ci siamo sempre più allontanati da una politica a favore del cittadino, è vero che si dice che il popolo è sovrano, però poi in realtà questa sovranità del popolo non si pensa alla risoluzione dei problemi del cittadino, in questi ultimi anni abbiamo sofferto molto, ancora di più perché siamo stati costretti al vaccino, al Green Pass, hanno leso proprio la nostra libertà personale e quindi io dico che è normale che siamo antisistema, perché se fossimo a fianco al sistema non credo che si risolverebbero le cose, perché siamo su due posizioni diverse, loro sono per il pensiero unico, noi non siamo per il pensiero unico, quindi il cittadino dovrebbe sceglierci per tutelarsi nei propri interessi. Poi per quanto riguarda la politica destra, sinistra, comunista, fascista, noi offriamo un'altra tipologia di ideologia, quella della libera scelta, perché oggi non ha più senso parlare di destra, di sinistra, di comunismo, diventano solo appartenenze di persone che restano limitate per quelle appartenenze, ma non vanno oltre, non si rinnovano in una nuova politica di libertà a favore veramente del cittadino, che possa fare l'interesso del cittadino, anche sottolineando l'etica e la morale, perché per esempio l'economia è andata a rotoli, però noi cominciamo sempre a voler sanare l'economia, ma l'economia non si riesce a sanare se non si parte da un principio morale ed etico, di trasformazione di etica e morale. Bene, visto che il tema vi interessa particolarmente, altro giro di risposte, stavolta invertiamo e modifichiamo l'ordine per le prossime due domande di risposta, relativa alla collocazione internazionale dell'Italia, l'Italia che però ha dei conti aperti con Bruxelles, con l'Unione Europea, con scelte drastiche, assolutamente in controtendenza rispetto alla tradizione europeista del Paese. Non si rischia di perdere finanziamenti del PNRR e ha anche un ruolo internazionale per l'Italia. Da questo punto di vista qual è la via che indicate? Il primo a rispondere in questo caso è Mario Andinolfi. Io non penso che il recupero della nostra autonomia e tradizionale politica estera forte, che ha rispetto di se stessa, rispetto del Paese che rappresenta, rispetto della nostra storia recente. Noi siamo l'Italia, non dimentichiamocelo mai, che quando gli Stati Uniti volevano obbligarci a non andare alle Olimpiadi di Mosca, vi ricordate, e tutta l'Europa obbedì agli Stati Uniti, noi siamo l'Italia che ha mandato Pietro Mennea a vincere i 200 metri, Sara Simeoni a vincere il salto in alto, non furono scelte casuali, non sono scelte sportive, sono scelte di indipendenza. Quando gli Stati Uniti fecero i gradassi, vi ricordate, nel caso Achille Lauro che sfociò nella crisi di Sigonella, i carabinieri italiani circondarono i Marines americani e l'allora Presidente del Consiglio, l'allora Ministro della Difesa, diedero un out-out, perché la dignità del Paese non va mai dimenticata. Ora siamo persone che obbediscono, abbiamo una classe dirigente subalterna rispetto alle decisioni che vengono assunte in contesti sovrarazionali. Bisogna tornare ad avere una classe dirigente competente. Io lo suggerisco anche ai miei interlocutori, guardate che conoscere qualcosa di tecnico, di essere preparati, avere un minimo di competenza su quanto vale un punto di PIL, cosa significano le politiche del debito pubblico, quanto ammonta il risparmio privato delle famiglie italiane, avere dei dati macroeconomici e non dire solo facciamo tutto questo per cambiare, perché si può cambiare anche in peggio, oppure per il cittadino, sì ma quale, con quali priorità? La politica è fatta di decisioni che pregnano alcuni e chiedono ad altri più sacrifici. Noi in Europa vogliamo andarci con la schiena dritta, senza proclami ideologici, ma certi che se dovessimo per esempio spendere in deficit per dare soddisfazione e bisogni delle famiglie italiane, se arriva una letterina da Bruxelles, noi la letterina facciamo un bel aeroplanino e la riportiamo indietro e vi assicuro che questo non produrrà la rottura dell'Unione Europea con l'Italia, perché l'Unione Europea ha bisogno dell'Italia, l'Italia deve solo essere consapevole del ruolo che svolge e non stare più in ginocchio, ma pretendere ciò che è proprio. Per fare questo serve una classe dirigente estremamente competente, alternativa all'attuale, per questo proponiamo l'alternativa per l'Italia, ma non assolutamente scevra da preparazione e contingenza, perché altrimenti si rischia di andare a un nuovo Movimento 5 Stelle che già abbiamo visto essere buono a nulla e capace di tutto. Grazie, Gisela e Gioello, voi siete per l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea e anche dall'Euro? Sì, sicuramente, perché è come una coppia di fidanzati che poi si vuole unire quando già si è rotta la coppia, quindi i disastri economici sono cominciati con la nostra entrata in Europa, con l'entrata dell'Euro, ci siamo visti dimezzati i capitali, ci siamo visti dimezzati i nostri risparmi, quindi assolutamente abbiamo provato in tutti questi anni questa politica europea che ci ha portato soltanto a debiti su debiti, non ha favorito il cittadino, quindi sicuramente sì, siamo per l'uscita dall'Europa. Come ha fatto l'Inghilterra? L'Inghilterra ha una sua propria moneta e quindi vogliamo anche crescere economicamente in questa maniera, è un sistema di crescita da proporre all'Italia, proprio con una nostra moneta sovrana e non più essere schiavi di queste potenze mondiali ed europee, perché poi sappiamo bene che dietro l'Europa c'è anche l'America e gli Stati Uniti, quindi noi vorremmo liberarci di questa schiavitù e assolutamente sì, uscire dall'Europa. Antonio Felice, in risposta a alcune cose che diceva Di Nolfi nei precedenti interventi, anche per ribadire qual è la posizione sul piano internazionale della vostra proposta elettorale. Sicuramente noi siamo per l'uscita dall'Unione Europea, ma non da oggi, ma da sempre. Quando penso all'Unione Europea, al matrimonio che è stato fatto, penso a una frase di Bernard Shaw che ha una ballerina di varietà che gli propose di fare un figlio insieme e gli disse maestro se facciamo un figlio insieme che esce con la mia bellezza e con la sua intelligenza e Bernard Shaw rispose e se viene invece con la sua intelligenza e la mia bellezza, ecco l'Europa è stata questa, è stata un'Europa che non assolve i problemi della gente, del popolo, ma assolve solo ai problemi della classe imprenditoriale, del capitalismo, è un'associazione imperialista e capitalista. Io in effetti oggi non volevo parlare della vicenda che ha visto ieri protagonista il nostro segretario generale su un tweet sulla morte di Gorbaciov, però diciamo quella è stata una provocazione, ma io penso che bisogna dire basta con il politicamente corretto, se per noi Gorbaciov è stato da sempre considerato un traditore, se per noi Gorbaciov è da alcuni documenti ormai in possesso perché desecretati e sappiamo che era un agente della CIA, sappiamo che Gorbaciov è stato messo in quella situazione proprio per distruggere l'Unione Sovietica che già aveva revisionato, aveva fatto una revisione di quello che era il comunismo dalla morte di Stalin, allora non ne volevo parlare perché penso che l'approfondimento storico andrebbe fatto in una trasmissione particolare non a livello elettorale, magari facendo parlare non solo chi era a favore di Gorbaciov, ma anche chi è contro, perché poi il mainstream, tra cui anche lei Dottor Perantuono, l'anno scorso nel centenario della nascita del Partito Comunista ha fatto parlare chi il Partito Comunista l'ha ammazzato, non certo che chi vuole tenere ancora aperta la questione comunista in Italia, ma io penso che oggi noi qui dobbiamo parlare di quelli che sono i programmi a livello nazionale, ma anche a livello locale, perché quello che si vede tra tutti i partiti che oggi ci sono, che non hanno nessuna progettazione di territorio e se poi vogliamo fare anche qualche appunto su quello che è la programmazione territoriale abruzzese, sono a disposizione di farlo nelle prossime domande. Benissimo, nel comunicare ai nostri telespettatori che noi forse siamo l'unica testata che dà spazio al Partito Comunista su questo territorio, poi ce ne vorrà dare atto o meno felice, noi andiamo avanti con un'altra questione che in qualche modo però in questo caso vi divide, perché andiamo sui temi, siete tutti quanti con una posizione molto chiara sulla situazione vaccinale, però io credo che per esempio sui temi della tutela della vita, dell'aborto e anche di situazioni che riguardano più da vicino la vita delle donne abbiate posizioni diverse. Ecco, su questo vi chiedo di confrontarvi a partire da Adinolfi, che appunto col popolo della famiglia è stato protagonista di grandi manifestazioni, anche di battaglie relative per esempio appunto all'abolizione della legge sull'aborto. Voi pensate di portare al traguardo questo risultato nella prossima legislatura essendo presenti in Parlamento? Beh, si è alzato un vento perché conta anche quello che avviene nel contesto internazionale, io suggerisco al collega del Partito Comunista di ascoltare per esempio le opinioni di un ciecoslovacco, ecco, a quel dibattito sarebbe bello partecipare un polacco o uno stesso Moscovita e chiedere se rimpiangono l'Unione Sovietica in quei tempi e il dibattito sarebbe immediato. Lo provi a chiedere ai rumeni, lo provi a chiedere ai rumeni, non possiamo fare, purtroppo non c'è molto semplice, c'è chi rimpiange il comunismo e lo sta esplicitando e rimpiange l'Unione Sovietica e considera la caduta di una dittatura feroce che ha causato 100 milioni di morti un male e chi guarda ai fatti storici dicendo che la caduta di una dittatura è un bene. Così come quando parliamo di vaccini io considero dittatoriale il fatto che uno Stato si permetta di violare il mio corpo, di conseguenza come odierei essere un cittadino che finisce nei kulag sovietici il cui corpo viene violato e ucciso, così come non ho amato essere un cittadino italiano che veniva ricattato da uno Stato autoritario e voleva obbligarlo a vaccinarsi violando il proprio corpo, così ritengo assolutamente normale e coerente che il bambino nascituro abbia diritto a non essere toccato nel suo corpo e dunque sia soggetto di diritti e non un oggetto, non è una valutazione che faccio solo io, è una valutazione che comincia a fare la Corte Suprema degli Stati Uniti grazie all'intervento di Donald Trump sulla sua composizione, è arrivata una sentenza che ha permesso a 27 Stati degli Stati Uniti di cominciare a dire che quel soggetto, quel bambino, perché quando io ho aspettato una delle mie tre figlie con mia moglie e non abbiamo detto aspetto un feto, aspetto un embrione, appena abbiamo visto il test di gravidanza abbiamo detto aspetto un bambino e quel bambino non si tocca come non si tocca il mio corpo, lo Stato non ha diritti sul mio corpo, non ha diritto lo Stato se no è autoritario e sovietico e grazie a Dio abbiamo abbattuto quelle dittature e non devono mai più tornare e vale anche per il malato, il depresso, l'affaticato, ogni persona ha una sua dignità profonda, lo Stato non deve in alcun modo, magari col pento barbitale raccontando che una grande benefica novità è l'eutanasia o il suicidio assistito, non deve permettersi di toccare il corpo dei cittadini, meno che mai dei cittadini più deboli che non si possono difendere con la loro voce. Mi aspetterei da forze che si proclamano così fieramente antisistema, non la difesa dei sistemi che uccidevano le persone, mi aspetterei la difesa del diritto al corpo di ciascuno di non essere mai violato. Grazie, grazie, allora anche la lista vita è molto impegnata nel suo programma elettorale sui temi etici, sui temi riguardanti in particolare le donne, sulla situazione anche a cui si rifaceva riferimento da parte di Adinolfi, aborti. La cancella non no la legge 194, quelli di vita, fatevi capire perché questa è la domanda. Questa è la domanda, mi ha aiutato da buon collega a fare questa domanda, prego. Allora per quanto riguarda l'aborto, come ho detto prima, se c'è un'educazione morale e l'etica, anche l'aborto verrà usato nella maniera giusta, non certamente a finito, non certamente a finito, purtroppo non è possibile, quindi non vorrei essere interrotto. Qual è la maniera giusta? Allora la maniera giusta è non usarlo ai fini contraccettivi, per esempio perché oggi non è più come un tempo, abbiamo tante possibilità per evitare una gravidanza a priori, poi anche chiaramente se sono finalizzati, perché poi se no favoriamo forme di aborto clandestine e sappiamo che esistono perché sappiamo benissimo come dottori che ci hanno rimesso la vita, come Biscardi ci aveva informato bene che nei vaccini attuali ci sono anche feti di aborto, quindi è ovvio che se se ne fa un uso improprio e un uso clandestino, se non c'è una legge che regolamentizzi l'aborto, verrà usato a fine e da scopi obrobriosi a del poco, come è quello che abbiamo appreso dal dottor Biscardi e quindi io sono sicuramente un'educazione morale civile, etica, non ci porterà ad usarlo in maniera impropria e quindi non soffrirà nessuno, penso che si trarrà solo del bene da questa, ovviamente tutto questo polverone è venuto fuori anche perché in America sappiamo bene che l'aborto si arrivava all'ottavo, al nono mese e quindi lì si entrava nel campo dell'omicidio e allora è venuta fuori tutta questa questione, però non credo che in Italia siamo a questo livello, ma un'educazione morale ed etica sull'uso dell'aborto la ritengo necessaria, una rivoluzione morale ed etica e il nostro partito si propone proprio questo. Felice bisogna intervenire sulla 194. Esiste una legge, la 194, ma questa legge però non viene applicata. Provate a vedere quanti sono i medici, gli anestetisti, obiettori di coscienza e poi farete un calcolo, un brevissimo calcolo matematico che vedete che in Italia abortire è difficile se non difficilissimo. Ora capisco che evidentemente ad Inolfi se continuo ancora a parlare di 100 milioni di morti del comunismo ha qualche problema di aritmetica perché basta fare un attimo qualche piccola operazione di addizione e sottrazione tra quelli che erano gli abitanti e i morti che poi vengono riportati dal libro di Fournier che parla di 100 milioni di morti, capisce bene che è un libro che è completamente falso, che dice delle falsità dalla prima all'ultima riga. Ma al tempo stesso voglio ribadire che se oggi ci troviamo con questo sistema e io continuo a dire che noi siamo contro questo sistema, quindi siamo una lista antisistema, lo dobbiamo anche e soprattutto alla caduta del muro di Berlino. E guardate bene che questo lo diceva tanti anni fa un politico a me veramente lontano, Andreotti, che lui si sentiva più protetto dal muro di Berlino e di fatti con la caduta del muro di Berlino abbiamo visto cosa è successo. Il capitalismo si è ripreso tutto quanto quello che aveva dovuto cedere, perché se noi oggi abbiamo le ferie, se noi oggi abbiamo l'interdizione per maternità, se noi oggi abbiamo la malattia e così via, lo si deve a quel sistema lì che già nel 1918 aveva fatto queste grandi riforme, a differenza dei paesi occidentali che l'hanno fatte alcune prima e alcune dopo il secondo conflitto mondiale. Ma ora basta parlare di queste cose perché non penso che siano interessanti. Sulla 194. Sulla 194. Io come dicevo la 194 è molto difficile da poterla applicare perché ci sono medici obiettori e quindi anche questo va visto in una funzione, come diceva prima l'amica, io utilizzo l'amica, a me non piace il termine collega perché mi sa tanto di aziendalista e noi non siamo aziende ma siamo partiti, siamo organizzazioni di persone. Come diceva la nostra amica, noi siamo per la 194 ma che ovviamente non deve avere scopi contraccettivi, ma deve essere utilizzata per chi realmente ne ha bisogno perché ovviamente avere un figlio che non è voluto certamente non aiuta né i genitori né tantomeno il figlio che sarà sempre un figlio non voluto e quindi sarà penalizzato nella sua serenità, nella sua crescita, nel suo compimento ad essere uomo. Grazie Felice. Entriamo su un tema, abbiamo parlato finora di temi internazionali, di temi sanitari, di temi etici. Ora vorrei andare però sulla concretezza. La concretezza ci porta alla realtà di un 8,4% di inflazione attestato proprio nella giornata di ieri, di un autunno durissimo che si prospetta per gli italiani. Parliamo di economia, di quelle che sono le vostre proposte delle ricette per poter uscire da una spirale che sembra avere anche delle assai probabili ripercussioni sul fronte sociale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e di questo si parla forse ancora poco in campagna elettorale. Iniziamo con Gisella Joelle in questo nuovo giro. Per quanto riguarda l'economia ovviamente noi stiamo per l'abbassamento delle tasse su sui beni primari che vediamo ci stanno proprio tartassando, a cominciare dal gasolio, anche sui beni alimentari, proprio quelli più necessari, i beni di prima necessità. Quindi sicuramente è agevolare anche una politica che dia spazio all'imprenditoria, anche al piccolo imprenditore che in questi ultimi anni abbiamo visto è stato proprio messo alle strette, molti imprenditori hanno chiuso, molti imprenditori sono falliti, hanno chiuso le proprie attività e quindi ci vuole un rilancio dell'economia anche attraverso una limitazione della digitalizzazione, perché il programma di questo governo è portare avanti la digitalizzazione. La digitalizzazione toglie lavoro a molta gente e quindi anche quello è una cosa da combattere, perché anche la digitalizzazione deve essere usata nel modo giusto e noi siamo contro questo programma di digitalizzazione che ci ha portato avanti i 5 stelle, perché hanno un programma ben preciso, questa trasformazione del mondo in virtuale, noi non siamo proprio d'accordo, per cui anche questo ha la sua influenza e l'abbiamo visto negli ultimi anni, ci hanno chiuso dentro, non ci facevano andare ai ristoranti, non ci facevano andare ai bar, quindi lo hanno favorito, quell'economia, anche i mercati, tutto ci hanno sacrificato e quindi l'economia è andata a rotoli e quindi sicuramente ci vorrà più equità per le tasse, ma credo che il discorso sia legato a un discorso sempre di onestà e corruzione, perché se ci sarà più onestà e corruzione si abbasseranno molte tasse, a cominciare quelle della benzina che sono quelle che poi fanno aumentare tutto, perché lì sappiamo che ci sono tante tasse anche antiche che andrebbero tolte, che ci aveva promesso il caro Salvini e che poi una volta occupata la poltrona se ne è dimenticato, quindi credo che con una politica più onesta e meno corrotta sicuramente si supereranno tutte le difficoltà che hanno portato i cittadini a questa deriva e ad ottobre ci aspetteranno altre chiusure sicuramente. Antonio Felice, quali sono le vostre proposte sul fronte economico fiscale, anche un giudizio per esempio sull'efficacia del reddito di cittadinanza? Allora, noi sul tema economico innanzitutto ribadiamo che siamo per la nostra sovranità monetaria, politica e soprattutto vogliamo una politica economica espansiva. Noi oggi stiamo vedendo quello che è successo, i due anni di pandemia hanno portato alla crisi di tante piccole aziende, hanno portato alla chiusura quelli che erano i piccoli artigiani, i piccoli commercianti, le partite IVA, perché non sono riusciti a sopportare i costi di mantenere aperte la loro attività in un periodo in cui lo Stato è stato completamente assente. Noi riteniamo che oggi, anche rispetto a quella che è l'inflazione, che oggi viene data all'8,4% e sicuramente sarà un'inflazione che andrà in aumento, vista la crisi sociale che ci sarà in questo autunno, siamo innanzitutto per il ripristino della Scala Mobile, quindi di mantenere agganciati i salari dei lavoratori, che badate bene, solo in Italia il valore di acquisto delle buste paga del salario dei lavoratori è diminuito di circa il 4%, mentre in tutte le altre parti sono aumentati. Quindi il ripristino della Scala Mobile che ci permette di mantenere agganciati i salari dei lavoratori a quelle che sono le dinamiche inflattive, che sono dinamiche inflattive volute esclusivamente dal capitalismo. Ovviamente siamo anche per il ripristino dell'articolo 18, ma soprattutto siamo per una programmazione economica nazionale, con la nazionalizzazione di quelle che sono le principali aziende energetiche, quindi per evitare le speculazioni, ma soprattutto siamo perché la diminuzione della tassazione in generale debba avvenire sui centri più deboli. Ma per fare questo si tratta di fare scelte politiche fondamentali, allora non si capisce per quale motivo questo governo italiano non interviene nei confronti di Stellantis, che ha la sede fiscale in Olanda e paga le tasse in Olanda, non interviene nella stessa Eni che è una partecipata dello Stato e che ha la residenza fiscale e paga le tasse in Olanda, la stessa Eni che ha guadagnato nell'ultimo periodo 700 miliardi, ha fatto un incremento dal 700% del suo utile. Se però il prezzo non è aumentato alla fonte, come mai questi guadagnano tutti questi soldi? Perché stanno facendo speculazione e questo è il capitalismo. Grazie. Adinolfi, che autunno vede all'orizzonte, soprattutto rispetto ad alcune scelte che sono state fatte dagli ultimi governi? Quali sono assolutamente quelle da revocare a suo avviso e quelle da cambiare? Intanto vi lascio dire che ho ascoltato un impianto tragico, se fossero queste le proposte per cambiare l'Italia. Pensi per lei che a noi ci pensiamo, non si preoccupi, adinolfi, non si preoccupi, vada avanti per la sua strada. Un ritorno al comunismo, l'annemico è il capitale, è l'altra che mi ripropone la ricetta di 5 Stelle, onestà, 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 senza capire che bisogna formulare delle proposte. Io dico molto semplicemente, esistono delle cause per cui abbiamo queste condizioni. Le cause sono evidentissime. La scelta scellerata di far partecipare l'Italia a un contesto bellico a cui non era chiamata a partecipare, che ha comportato dunque l'innalzamento immediato del costo energetico, perché noi molto semplicemente comprovamo da Gazprom a 2, adesso compriamo gas liquido a 200 dagli americani cercando disperatamente di ricassificarlo nei nostri ricassificatori che non ci sono e che quei partiti stessi di governo che dovevano costruire le condizioni non volevano, per esempio, a Piombino. È tutto troppo chiaro, troppo evidente. Cosa bisogna fare? Bisogna immediatamente, e ripeto, immediatamente ripristinare rapporti di amicizia con la Russia, e grazie a Dio è Russia, non è più Unione Sovietica, altrimenti saremmo assolutamente dei guai. E parlando immediatamente, recuperando i rapporti con la Russia, anche grazie al ruolo decisivo svolto dalla Santa Sede, da Papa Francesco, che ha sempre avuto una parola di pace, è riuscito anche a fare come noi, a piangere per la morte della figlia di Alexander Dugin, perché era un atto proditorio, evidentissimamente portato a costruire la guerra permanente nella regione, l'Italia deve immediatamente ricostruire i rapporti diplomatici amichevoli con la Russia, riottenere l'apertura delle condotte Nord Stream 1 e Nord Stream 2 per avere l'approvvigionamento energetico adatto, dire no a qualsiasi forma di razionamento, bloccare l'aumento al 2% del PIL, degli armamenti, perché è folle passare da 25 a 38 miliardi di spesa per armamenti quando abbiamo questa condizione sociale. Noi di Alternativa per l'Italia fermeremo quell'innalzamento, avremo un tesoretto da 65 miliardi di Euro nella legislatura da spendere immediatamente per la natalità, per le piccole e piccolissime imprese familiari, perché voglio andare in pizzeria e non voglio andare da Pizza Hut, voglio andare al mio bar a bermi il mio caffè e non andare da Starbucks, perché voglio costruire le condizioni per cui il nostro tessuto sociale tradizionale, classico, abruzzese, possa essere rivitalizzato attraverso la piccola e piccolissima impresa familiare e investendo così i denari, perché questo è ciò di cui c'è bisogno, proposte concrete che partano dalle risorse che si possono reperire, non chiacchiere sul comunismo e l'onestà, che non servono a niente. Grazie, grazie, tocca a lei, tocca a lei, tocca a lei, siamo sull'ultima parte del nostro incontro che è sempre liturgicamente dedicato all'appello elettorale, che però deve confrontarsi, soprattutto nel vostro caso, rispetto a questa cosa del voto utile che inizierà a circolare man mano che ci si avvicinerà alla data del 25. Allora si dirà, lo scontro è in tutt'altra parte, lo scontro è tra Letta e Meloni e quindi qualunque altra forza politica che voi andiate a votare non incide sul futuro del prossimo Parlamento. Ecco, come rispondete a questa obiezione e soprattutto come motivate i vostri elettori alle urne? Iniziamo proprio con Gisella Joelle. Ma veramente già per risposta al signore che sembrava chissà cosa dovesse proporre di nuovo, mi sembra che io ho detto un aspetto morale di onestà e non corruzione e poi ho detto che favoriremo la piccola imprenditoria, quindi anche lui ha proposto, la piccola imprenditoria è chiaro che si intendono i prodotti tradizionali, si intende tutta la nostra cultura culinaria, il turismo, tutto ciò, il patrimonio artistico che abbiamo anche, valorizzare tutto ciò che è locale. Mi sa che l'abbiamo detto anche se non esplicitamente, ma insomma era implicito il fatto, quando si dice favorire la piccola imprenditoria, che non siamo per la guerra e siamo per la pace, è già incluso quando io mi sono definita antisistema, mentre lui non si è definito perché non gli piace il termine antisistema, invece a me piace perché racchiude tutto, racchiude che siamo contro la guerra, racchiude che siamo contro questa politica di capitalismo mondiale, racchiude che siamo contro questa politica oppressiva per tutti i cittadini, disastrosa nei confronti dell'economia, a cominciare dal piccolo, ma poi piano piano arriverà anche al grande, perché soffrendo il piccolo soffrirà piano piano anche il grande, perché è una società che tende alla distruzione e non alla rinascita. A noi con il partito di vita, con questo simbolo che io veramente voglio far rivedere perché mi sembra, vabbè si è perso nel telefonino, ma comunque che simboleggia questo albero, la bandiera italiana innanzitutto, c'è il bianco, il rosso e il verde e poi c'è questa donna con queste radici e proprio simboleggia una rinascita di tutto, dell'economia, dell'etica, della morale, perché noi siamo messi veramente male, dobbiamo cambiare tutto in Italia, non si può cambiare solo una cosa, bisogna cambiare tutto, quindi questi signori che sono stati al governo fino ad oggi hanno perseguito sempre la stessa politica con un pensiero unico, venduti a qualcuno, non si sa a chi, a dei mondialisti sicuramente e quindi io mi definisco con il mio partito antisistema e spero con tutto il cuore che il popolo italiano lo mandi a casa e faccia venire a governo forze nuove. Felice, preoccupa anche voi quello che prima ha definito un po' il mainstream della comunicazione su queste elezioni che parla soltanto e man mano che ci si avvicina al 25 settembre di voto utile? Certamente, innanzitutto io voglio far vedere il nostro simbolo che Italia sovrana e popolare, un simbolo che difficilmente state vedendo questi giorni nelle televisioni, però è anche bene ricordare che la nostra lista è quella che è presente al 100% su tutto il territorio nazionale, a differenza di tutte le altre liste che si definiscono antisistema o che sono di opposizione a questo governo. Siamo l'unica lista presente sul 100% del territorio nazionale. Ora, ci preoccupa, io penso che oggi esiste una sola cosa, esiste il PUL, il Partito Unico Liberale che comprende dalla Meloni, da Fratelli d'Italia, passando per Conte, Renzi, Calenda, Fratoianni, Letta, tutto il Parlamento italiano scende, li comprende tutti, questo è il PUL, il Partito Unico Liberale o liberista forse, e noi vogliamo essere invece contro questi partiti, perché io qualche giorno fa ho fatto un post in cui dicevo che faccio politica da quando avevo 13 anni, sono sempre stato comunista e ho fatto per un certo periodo il funzionario di quel partito e che nel momento in cui questo partito si è trasformato in PDS, ho preferito andare a fare un lavoro, ho fatto il cameriere per poter mantenere la mia famiglia, perché pur se io perlomeno non mi interessa della famiglia tradizionale, però sono felicemente sposato da 35 anni, ho due figli, due nipoti, quindi sono perlomeno perlomeno mi sono sempre comportato in modo impeccabile nei confronti della famiglia, anche se non ritengo che la famiglia tradizionale debba essere un punto di riferimento ideologico per questo nostro paese, a differenza di qualche altro, come ad esempio la Meloni, che è a difesa della famiglia tradizionale, però ha un figlio fuori dal matrimonio, convive da diversi anni con un'altra persona e così via, quindi quale famiglia tradizionale è questa? Ma io dicevo che io sono comunista da quando avevo 13 anni, a differenza ad esempio di Mario Adinolfi che viene eletto come deputato nel PD, poi si dichiara europeista il grande sostenitore di Tony Blair, poi di Bill Clinton e poi arriva Trump, ma allora bisogna avere un po' di coerenza con le proprie idee, perché mettere insieme Clinton e Blair, mettere insieme Blair e Trump è troppo, quindi non corrisponde assolutamente a nessuna logica di coerenza. Adinolfi, il voto utile alla lista alternativa per l'Italia che significato avrebbe nel nuovo Parlamento? Sarebbe il cambiamento vero, il cambiamento della competenza, della cultura di governo, di quelli che non improvvisano, di quelli che non leggono le biografie degli altri su Wikipedia perché hanno una fonte un pochino più articolata, che quando bisogna insultare gli altri bisogna essere anche preparati a farlo. A me non piace insultare le persone, a me non piace allo stesso tempo lo ripeto. Non possiamo fare. Io non so neanche chi sono queste persone, quindi non ho proprio idea, non hanno la pagina su Wikipedia. Non hanno la pagina su Wikipedia, quindi se sono stato attaccato personalmente il conduttore capirà che io posso rispondere sul piano personale, perché sul piano personale io non ho attaccato nessuno. Ho contannato certo e lo continuo a condannare, chi dice che il comunismo faceva stare bene le persone e non le ammazzava. Lo continuo a condannare. Poi il signore che pensa di poter mettersi all'altezza di Fournier, ovviamente avrà i suoi titoli accademici per mettersi all'altezza di Fournier, ma io non sto contannando lui. Lui ha pensato di attaccare Maria Dinolfi. Maria Dinolfi è il qui rappresentante di una forza politica che dice attenti ai maghi stregoni nostalgici del passato comunista, attenti agli improvvisatori finto pentastellati, perché il 5 Stelle ce l'abbiamo già avuto e abbiamo capito che senza un minimo di competenza la baracca non si raddrizza. Noi siamo l'alternativa per l'Italia che porta dentro questa campagna elettorale un'alternativa concreta con una proposta di governo, che parte sì dalle famiglie, perché ciò che più conta per ciascuno di noi, persino per colui che ha detto a me la famiglia, no non mi interessa, alla fine ciò che più conta per ciascuno di noi è la propria famiglia. Da lì si riparte, perché il tessuto imprenditoriale italiano, informo la signora che parla di onestà generica, è fatta di piccole, piccolissime imprese familiari che in questo momento hanno bisogno di risorse che vanno prelevate da punti precisi della manovra economica finanziaria che andremo a votare dal Parlamento, noi di alternativa per l'Italia, perché entreremo in Parlamento già a ottobre, ma se uno arriva in Parlamento deve sapere dove si fanno queste operazioni e si fanno con competenza nel documento di programmazione economica e finanziaria e nella legge di bilancio. Lì abbiamo le idee chiare, lo abbiamo esplicitato qui per i cittadini e per le imprese abruzzesi, per i cittadini e le imprese italiane c'è bisogno di un'alternativa, chi vota alternativa per l'Italia sa che si mette in mani competenti di persone che stanno senza nostalgie e senza grillismi, perché i grillini li abbiamo già pagati troppo sulla pelle di questo Paese. Grazie a Mario Adinolfi, grazie Antonio Felice e Gisella Joelle, si chiude questa tribuna elettorale per la circoscrizione del Senato in Abruzzo sul sistema proporzionale, ricordo ancora una volta che pur essendoci i nomi dei candidati sulle liste va assolutamente cerchiato, anzi va messa la croce sul simbolo che è quello presente sulla scheda, è un sistema molto complesso, soprattutto poi tra un'inominale proporzionale, però la cosa importante che l'elettore una volta che si è fatto un'idea deve ricordare è quella di mettere la croce sul simbolo e quindi eleggere i propri rappresentanti in Parlamento. Grazie anche ai nostri telespettatori e a Danilo Cinquino dalla regia, appuntamento a domani per una nuova tribuna elettorale, arrivederci. Grazie.